Sarà l'anno del silenzio per le commemorazioni sulle stragi del 92. A poche ore dal 19 luglio, data in cui ricorre il trentesimo anniversario dell'attentato di Via D'Amelio, costato la vita a Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta, il Movimento Agende Rosse per Bocca di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia, chiede il silenzio sulle passerelle antimafia. Recentemente anche Fiammetta Borsellino, figlia dell'ex procuratore aggiunto di Palermo, ha affermato chiaramente che non parteciperà più alle commemorazioni finché non sarà fatta piena luce sull'attentato e sui depistaggi che seguirono. Un concetto praticamente ribadito dai rappresentanti del Movimento delle Agende Rosse, che non hanno risparmiato stoccate alla politica, affermando alcuni recenti provvedimenti legislativi, come la cosiddetta riforma che introduce il principio dell'improcedibilità per numerosi tipi di reati e la cosiddetta riforma dell'ergastolo stativo in discussione al Senato fanno carta straccia degli insegnamenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I cittadini si aspettano dalle istituzioni azioni concrete, dissociazioni dalla mafia e soprattutto trasparenza per riavere la loro fiducia. Le stragi del 92 toccano da vicino Caltanissetta, perché nelle aule del Palazzo di Giustizia di Via Libertà si sono svolti e si svolgono i processi sulla stagione di sangue del 92 e le indagini sui tanti misteri legati a quegli eventi sono ancora in corso.